Conad Punta Marina, proprio all'ingresso di Punta Marina. Facile da raggiungere, con comodo ed ampio parcheggio dove poter fare la spesa con facilità e convenienza. Prezzi bassi e fissi sempre. E nuove offerte tutti i giovedì, oltre alla vasta scelta di prodotti a marchio Conad, e non solo. Il nostro personale cortese e qualificato ti potrà aiutare a trovare tutto ciò che cerchi. Dall'ortofrutta freschissima, il fornito banco salumi e formaggi, macelleria a libero servizio, rosticceria e takeaway. Pescheria con servizio, panetteria con pane cotto da noi e del fornaio. Ma tanto altro ancora, ti aspetta su 1200 metri quadri di assortimento di prodotti anche non alimentari, ma necessari. Come articoli per la casa, piante, fiori, cartoleria, piccola profumeria. E poi, basta chiedere. Siamo aperti tutti i giorni dalle 7.30 alle 20. La domenica dalle 7.30 alle 13. Aperti anche a Pasquetta. Conad di Punta Marina Terme. Da sempre, sinonimo di qualità e convenienza. www.conad.marina.it A Loma Mers, quindi con questa bellissima tradizione delle campagne, diamo vita a questa rinascita, vera e propria, perché ognuno di noi ha proprio l'esigenza di stare di nuovo ad aggregarsi. L'attività di quest'anno, speriamo, contiamo di farla a pieno, mentre negli anni scorsi, purtroppo, abbiamo dovuto seguire un po' l'andamento. Programma ricchissimo, siamo già in una location spettacolare, questa qui. Quindi da qui partiamo, già domenica, con la Corsa della Bonifica, quindi con uno degli eventi sportivi. Tre eventi sportivi grossi che facciamo, l'Urban di luglio e la Ravenna Milano Marittima, che sono i nostri tre eventi di punta da un punto di vista sportivo. Ma la nostra attività, come sapete, è trasversale, quindi anche in questo periodo abbiamo inserito tantissimi stimoli per far conoscere il nostro meraviglioso territorio. Consorcio di Bonifica, che anche qui dobbiamo ringraziare tantissimo, che crede in questa bellissima progettualità insieme. Le iscrizioni comunque le trovate sul sito, ma ormai sono gli ultimi giorni, quindi affrettatevi perché c'è ormai da partire. Questo è un casolare della fine dell'Ottocento che io ho desiderato avere e me lo sono proprio conquistato contro tutto e contro tutti, convincendo anche i vecchi conti Pasolini che non avevano nessuna intenzione. E me ne sono innamorata tanto da rispettarlo per com'era. Quindi tutto quello che c'è, quel sapore, quell'atmosfera che lei diceva che c'è, appartiene alla casa stessa da sempre. Si è rifatto un po' il tetto e il resto lo si è accolto il più possibile come era. Perché uno non si innamora di una cosa e poi la cambia. Quindi la tiene per com'è, come succede. Mi piace, sono stata nominata madrina del trail Romagna, e questo mi fa onore perché sono cose che uno si merita, uno non si inventa. A un certo momento chiediamo alla signora Mazzavillani di essere la madrina. No, questo amore che ho per la natura, per i viaggi, ma soprattutto per indagare la bellezza del nostro territorio. Ed è veramente un territorio straordinario. Non c'è nessuna terra che abbia in sé, in piccolo spazio, così tanto, come posso dire, così tanto sapore di tutto. Una volta dissi la Camargue italiana, sì, sì, è qui, è in Romagna. La Pineta, la Valle, gli Aquitrini, le Saline, i cavalli selvatici al Boscone della Mesola. Non è più Romagna ma siamo ai confini. I cavalli stessi nella nostra Pineta. Subito la Collina, Dolce, e poi subito l'Apennino, che ci congiunge sia con la Toscana che con le Marche, e in un certo punto lontano, appena appena anche con l'Umbria. Quindi un territorio piccolo, diciamo, ma dove tutto si può incontrare. La Valle, per esempio, la Valle della Canna è nel mio cuore. Sono nipote di un cacciatore e figlia di un pescatore, e quindi pescatore di canna e cacciatore di fucile. E quindi so quanto queste persone, amanti della natura, non siano così da criticare perché amano la caccia o amano la pesca. Si tratta di sapere come, dove, quando e perché. Il grande rispetto. Il grande rispetto. Ritorno all'omemerz, questa antichissima tradizione romagnola, che vengo a sapere da te, cara Sabrina, e te ne ringrazio, che non è soltanto propizzatorio accendere dei grandi falò, ma serve davvero per stemperare l'atmosfera. I contadini usavano questi grandi falò per stemperare l'atmosfera e quella prima brina, o ultima brina, che gelava e mandava in pericolo le gemme, i campi che appena spuntavano, le erbe, i grani, eccetera. Quindi bella questa cosa, che non è solo propizzatoria, ma proprio si interviene con la natura, dice ti do una mano, ti riscaldo io, vediamo se succede qualche cosa. Sì, abbiamo qui dei cuochi, io sono molto in soggezione. Qui nella cucina, qui dietro, ci sono 4-5 straordinari, chiamiamoli cuochi, ma sono degli ingegneri del cibo, che hanno portato tutto e di più, e che si confrontano, si avvicendano con le loro specialità, e quindi ci sarà un momento anche di buon cibo, subito dopo il Lome Mert, e mi pare anche fisarmoniche danze sul prato di notte, con il grande falò acceso, quindi grande atmosfera, e sono onorata di avere tutto questo nella mia casa. Sempre di più, trail, ro, magna, ci sbilanciamo verso il food. No, abbiamo veramente agganciato Chef2Chef, Ravenna Food, quindi siamo fortunatissimi in questa collaborazione, ci seguono in quasi tutte le nostre attività, perché gli eventi sportivi o gli eventi culturali o tutta la nostra rassegna ha questo pregio di questa collaborazione che arricchisce in maniera sostanziosa gli eventi, e quindi terminiamo sempre con qualcosa di molto gradito. Non finiremo mai di ringraziare naturalmente tutti gli assessorati, gli assessori che hanno creduto in noi, il sindaco che è stato il primo a credere in noi, in questa bellissima attività trasversale, e quindi ci consente di dare anche un respiro sempre più ampio, e soprattutto in questo noi siamo stati tra le prime associazioni a cercare di far rete, e quindi di coinvolgere più associazioni, quindi noi siamo di sicuro quelli che fanno partire un po' l'idea e la progettualità, ma insieme a tante altre associazioni del territorio che si occupano a vari livelli, o chi di bicicletta, o chi di tutte le attività un po' outdoor, e tanti studiosi che insieme arricchiamo naturalmente la conoscenza del territorio. Sì, abbiamo l'Urban, prima domenica di luglio, che ormai è sempre più seguito, infatti pre-pandemia abbiamo avuto mille passi di iscritti alle sei di mattina, quindi un evento anche... Anche esclusivo come percorso? Sì, sì, perché facciamo in quel momento, diciamo, far aprire anche le antiche mura e metterle in sicurezza, e quindi con vari percorsi far vivere a vari livelli, a varie andature, la meraviglia del nostro paesaggio e delle nostre eccellenze territoriali. Dopo l'Urban? Dopo l'Urban c'è anche la Ravenna Milano Marittima, che è ormai la dodicesima, credo, edizione, quindi è la nostra edizione storica e che è la classica evento che da Ravenna arriva fino a Milano Marittima. Adesso dobbiamo capire, naturalmente, in che modo riuscire a superare alcuni aspetti logistici, ma attraversiamo veramente tutti con una biodiversità e con una territorialità straordinaria, quindi dalla città passiamo agli argini fluviali, alla pineta Ramazzotti, alla pineta Di Classe, quindi attraversiamo veramente tutto il percorso e costellato veramente di meraviglia e quindi chi partecipa a questi eventi torna a casa con grande soddisfazione. I territori sono i nostri che abbiamo, naturalmente, nei dintorni, ma non solo, perché già nel nostro nome, Trail Romagna, noi spaziamo un po', quindi andiamo anche sulla Vena del Gesso Romagnola, abbiamo degli eventi nella parte romagnola delle foreste gasentinesi, abbiamo sicuramente il cammino, quest'anno daremo vita ufficialmente al cammino di San Romualdo, quindi questa è una chicca straordinaria che entrerà nel numero dei cammini ufficiali dell'Emilia Romagna, e il San Romualdo, naturalmente, che la fa da padrone. www.trailromagna.eu e lì avrete sempre, naturalmente, qualsiasi aggiornamento, e abbiamo anche la pagina Facebook, Instagram, quindi siamo puntuali nel comunicare. Ci sono gli obiettivi di valorizzazione del nostro splendido territorio, sia dal punto di vista storico e culturale, ma anche paesaggistico e naturalistico. E poi, ricordiamoci le tradizioni, come questa sera, con l'appuntamento dell'Ome Mers, ma le tradizioni che sono anche la nostra enogastronomia, l'agricoltura e l'agroalimentare del territorio. Il programma di 3 in Romagna è un bel connubio di tutto questo, che sempre di più diventa anche un valore della destinazione da raccontare per motivare le persone a venire su un territorio che ha tantissimo da offrire. Ci insegna che ci sono dei percorsi da riscoprire che difficilmente a volte entrano nel sistema turistico organizzato come esperienze da offrire ai nostri turisti. Quindi il valore di 3 in Romagna è quello di sperimentare percorsi come la camminata sulle mura storiche della città o la corsa della bonifica o la corsa, il trail attraverso la nostra pineta, perché poi successivamente possano diventare o un'offerta continuativa del territorio, perché l'amministrazione se ne fa carico, fa un investimento, rimette a posto le mura o il percorso all'interno della pineta, o perché un tour operator, un operatore del sistema turistico comincia a vederci un valore e lo inserisce come esperienza vendibile ai turisti che vengono sul nostro territorio, ma semplicemente perché si va a pagare un professionista che può essere la guida escursionistica che ha conseguito uno specifico esame di riconoscimento percorso che può trarne beneficio, quindi ricaduta economica anche per delle nuove professioni.